Abbiamo creduto prima di altri in un'agricoltura diversa, che nutre il suolo, il corpo e l'anima. Il biologico, una passione da 50 anni. Lo abbiamo aiutato a crescere. In Italia certifichiamo oltre il 25% delle aziende biologiche e il 30% della superficie. Migliaia di aziende che credono in noi. Nel nostro lavoro, nella passione che mettiamo e nel nostro impegno. La grandezza del lavoro è all'interno dell'uomo. Il nostro capitale umano ha un obiettivo comune. Garantire il servizio alle imprese, nel rispetto delle regole, a tutela del sistema. Guardiamo al futuro con grande fiducia. Con senso di responsabilità. Affrontando le situazioni con tenacia. Facendo tesoro dei nostri errori. Gioendo per i nostri successi. Questo è il nostro modo di essere. Diamo garanzia alle tue scelte. Nel biologico c'è un mondo migliore. Quello che abbiamo sognato. Da sempre. Ed eccoci a camminare sui vecchi passi. Con innovazione. E con l'entusiasmo di sempre. Sicuri di essere dalla parte giusta. E di essere parte attiva di un grande progetto. Sempre pronti a fare la nostra parte. Tanti visi. Una sola azienda. NotA Mannapore ricevale. Non. Grazie a tutti